Stamane abbiamo intercettato telefonicamente il dottor Angelo Di Stefano a proposito della situazione del Campobasso Calcio. L'imprenditore campobassano sostiene la possibilità di riunire un gruppo di imprenditori locali per ripartire dalla Serie D creando Ex Novo, una società ovviamente, assolvendo a tutti gli oneri finanziari del caso, e cioè un versamento a fondo perduto di 300.000 euro, tassa di iscrizione di 19.000 e una fideiussione pari a 31.000 euro. Ricordiamo altresì che più di un anno fa lo stesso Di Stefano unitamente a Marco Pulitano tentarono attraverso una chiacchierata in comune di aggiudicarsi la gestione dell'area di Selva Piana senza ottenere una precisa risposta in merito. Medessima richiesta avanzata dal Vicentino di Palma, sempre a Palazzo San Giorgio, il quale ha ricevuto da parte degli amministratori del posto forse una disponibilità maggiore rispetto a quella concessa ai signori locali. Dando allora per assodato una cancellazione dai professionisti del Campobasso, che sarà certificata soltanto dopo il primo luglio, non si dispera sull'occasione di creare una nuova società attraverso una coalizione di imprenditori in grado di sobbarcarsi le spese già menzionate. Altra possibilità probabilmente meno facile rispetto alla prima, cercare di recarsi in punta di piedi a Boiano per acquistare il titolo dei Biancorossi freschi di promozione, proprio in Serie D. Considerazione che facciamo con il dovuto rispetto per la cittadina di Boiano e tenendo conto che il titolo di Serie D è stato consegnato nelle mani del primo cittadino Silvestri. Lo stesso sindaco in alcune ultime esternazioni è stato possibilista sul discorso calcio a Boiano. Altro problema però a cui si andrebbe incontro se si dovesse percorrere tale pista è che bisognerebbe disputare le partite interne proprio al Colalillo di Boiano. Possibili queste due ipotesi in vista di una quarta serie nel capoluogo, non gradita troppo dai tifosi rosso-blu l'idea di supportare il Campobasso 1919 per una scalata verso altre categorie, se non altro per la presenza anche di Di Palma con partecipe del fallimento in atto del Campobasso dal professionismo. Nel cortese colloquio telefonico con il dottor Di Stefano, lo stesso imprenditore campobassano ha lanciato una stoccata non troppo velata alla politica molisana in questi ultimi giorni al centro di un'inchiesta per lo sperpero di fondi pubblici. Si parla di circa 700 mila euro. La constatazione amara è che se ogni partito avesse voluto riservare un piccolo contributo allo sport, rileva Di Stefano, probabilmente non staremmo qui a celebrare il lento rito funebre del Campobasso. In realtà qualche tifoso vecchio stampo aveva già pronosticato quale doveva essere la ricetta giusta per il Campobasso non troppo tempo fa in una nostra trasmissione Molise a calci. Se fai una società nuova parti da zero, se hai una struttura già con il settore giovanile allora puoi andare avanti. Inizi dall'interregionale, parti senza debito e senza niente. Però si perderebbe la Lega Pro. Ma scusa, ma chi è quell'imprenditore che oggi prende una società con due milioni di debito, un milione e mezzo, poi di fare la squadra ce ne vogliono altre due, no? E ce ne vogliono quattro.